L'efficienza energetica non è il risultato scontato dall'evoluzione tecnica, è invece il prodotto di una storia fatta di progresso scientifico, di innovazione tecnologica, di puntuale formazione, di comportamenti nazionali e di impiego corretto. Roma, il Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani, dà il benvenuto ai relatori e al pubblico alla presentazione del primo rapporto Enea sull'efficienza energetica. Il rapporto è sostanzialmente un'analisi e una valutazione di tutte le misure, dagli incentivi alle normative, adottate in Italia negli ultimi dieci anni per rendere più efficiente l'uso dell'energia. È innanzitutto uno strumento per i decisori politici che per la prima volta dispongono di un'informazione completa sul settore fondamentale per la crescita del Paese e il risultato è stato accolto con estremo interesse dai rappresentanti di Camera, Senato e del Governo. Si tratta di uno strumento esemplare. È esemplare perché consente di dare a chi poi deve assumere le decisioni, cioè il Governo, quel patrimonio informativo senza il quale ogni decisione è priva di fondamento. Quindi è proprio un esempio tipico di come dovrebbe procedere la pubblica amministrazione, acquisire attraverso un ente dello Stato quello che è il patrimonio conoscitivo utile a prendere le decisioni. L'efficienza energetica, come è stato ripetutamente sottolineato da molti relatori, si fa anche con la partecipazione dell'utente informato e consapevole delle conseguenze economiche, oltre che sociali e ambientali, di abitudini e pratiche energivore. È necessario aprire uno spazio di dialogo e confronto con tutti i gruppi di interesse, dai produttori ai gestori di rete fino al cittadino, il maggior consumatore di energia. Il rapporto è stato quindi concepito anche per fornire una base conoscitiva sulla quale avviare un processo di sensibilizzazione. Ho proposto anche che l'Enea possa svolgere questa funzione di informazione e di comunicazione, per esempio promuovendo una serie di contatti con il mondo della scuola per far capire agli studenti, quindi a coloro che poi saranno la classe dirigente, gli operatori del futuro, qual è il modo migliore per poter risparmiare e raggiungere l'efficienza energetica. Fra le questioni emerse durante il dibattito è stata sottolineata l'urgenza del piano energetico nazionale. Tutti i settori produttivi del Paese trarrebbero beneficio e vantaggi dalla definizione di una strategia nazionale su rinnovabili, efficienza e approvvigionamento energetico. Il Ministro Passi ci ha assicurato che questo si farà, avremo un incontro anche la prossima settimana, quindi da parte nostra solleciteremo questo governo tecnico a fare in modo che quegli impegni vengano rispettati perché senza piano nazionale energetico non sarà possibile programmare e disciplinare anche un settore che è diventato particolarmente importante per le famiglie ma soprattutto per la piccola e meglio impresa.